Terza settimana di lezioni in presenza al 50% per le scuole superiori della Regione. Anche questa volta sono state immediate le polemiche sull'adeguatezza dei trasporti, soprattutto nel capoluogo di Regione Ancona. Noi abbiamo testato la linea 30 che dal centro della città arriva verso una delle scuole più frequentate, l'Istituto Superiore Volterra Elia. Allora vediamo com'è andata con Anna Francesca Mezzina. Oltre 1300 studenti iscritti. Da quando sono riprese le lezioni in presenza al 50%, il Volterra Elia di Ancona accoglie ogni giorno circa 650 ragazzi. Quasi tutti utilizzano i mezzi pubblici. Chi viaggia con Conerobus lo fa sotto lo sguardo vigile degli steward. Noi stiamo rispettando tutte le regole che ci vengono chieste, quindi il riempimento al 50%, ma non lo raggiungiamo mai. Quindi fino adesso non abbiamo mai raggiunto la capacità al 50%, perché al massimo in alcune corse siamo arrivati al 40%. Per l'Istituto in zona Torrette la linea è stata raddoppiata. E abbiamo potenziato le linee dove c'era bisogno, per cui il nostro monitoraggio è continuo tutti i giorni, per cui sappiamo come sono le situazioni e dove occorre facciamolo alla linea bis. Il bus dedicato riporta all'esterno il numero di posti disponibili e fa una sola fermata intermedia. Praticamente c'è la fermata qui della stazione e poi dopo si arriva all'Itis. Anche chi arriva da città limitrofe non rileva particolari criticità. Vengo da Marotta, in treno comunque ci sono sempre un sacco di posti e riusciamo tranquillamente a sederci mantenendo la distanza. Gli spazi dell'Istituto sono ampi e per il dirigente scolastico il rientro al 50% è un buon compromesso per tutelare la salute di tutti e anche il diritto alla socialità. Noi diciamo che siamo organizzati a classi intere, però settimane alterne. Quindi diciamo che l'organizzazione didattica in questo modo è anche efficace, perché gli insegnanti modulano le attività didattiche sulla base appunto delle lezioni in presenza e a distanza che ovviamente richiedono metodologie di tipo diverso. E quindi diciamo che secondo noi è una buona situazione.